Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine usuale, solito, classico, ben conosciuto della mia libreria. Allora, 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 il bello di lasciare la massima libertà di parola alle persone nei commenti di questo canale è che spesso e volentieri le persone riescono a suicidarsi malamente. Perché? 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 Perché una settimana fa circa io ho pubblicato, se ben vi ricordate, il video in cui spiegavo, grazie alle pagine di Ceva e Kurami sulla meccanizzazione del regio esercito fino al 1943, dicevo, spiegavo il perché e il per come qua in Italia non fu mai prodotto il Panzer IV e parlavo delle difficoltà produttive del carro P40A, del P2640. Sentite un po' che cosa salta fuori. Allora, una settimana fa il signor Panzer Luke Rommel ha scritto seriamente, ma sulla linea gotica i tedeschi usarono le torrette con relativo cannone da 75 mm interrate del P40. Credo fossero centinaia. Qualcosa ha fatto il P40. Ha fermato gli alleati un anno. non è un pesce d'aprile. Non è un pesce d'aprile. Non è, e ripeto, sottolineo, non è un pesce d'aprile. Ripeto, sulla linea gotica i tedeschi usarono le torrette con relativo cannone da 75 mm interrate del P40. Credo fossero centinaia. Qualcosa ha fatto il P40. Ha fermato gli alleati un anno. Allora, detta fuori dai denti. I P40 costruiti dopo l'armistizio, e ripeto e sottolineo, dopo l'armistizio, non furono più di 100. E i dati ci sono. I dati costruttivi ci sono. Gli stessi tedeschi hanno esposto... Scusate, hanno esposto i loro dati. I P40 costruiti durante l'occupazione tedesca non furono più di 100. Da essi... Da alcuni di essi senza motore, perché ricordiamoci... Ricordiamoci, il motore dedicato del P40 non fu mai pronto e i P40 distribuiti ai tedeschi e i pochissimi P40 distribuiti alla Repubblica Sociale Italiana erano dotati di un motore da camion. Ok? Quindi, i P40 senza motore furono privati della torretta e le torrette usate in installazioni difensive dove sulla linea gotica si parla di circa 20 o 30 torrette di P40 non centinaia e centinaia. Il signor Panzer-Luke Rommel molto probabilmente si confonde con le cosiddette Panther-Turm, ovvero sia le torre, le postazioni difensive ricavate dalle torrette dei carri armati Panther. Quelle erano diffuse lungo la linea gotica. Ma le torrette dei P40, il P40 ha fermato per un anno gli alleati sulla linea gotica. Insomma, io non ho nemmeno voglia di infierire. Mi smonta sta cosa. Come si fa a crederci? Questo non è neanche essere appassionati o tifosi. Questo vuol dire proprio non essere in grado di fare 2 più 2, signori, le centinaia di torrette di carri P40 che hanno bloccato l'avanzata alleata sulla linea gotica. Quindi il P40 qualche cosa di buono l'ha fatto. Che gli devo da di? Koyo da di? Koyo da fe? Koto da di? Koto si dice dalle parti mie, ovvero sì, che tradotto più o meno vuol dire cosa ti devo dire, cosa ti devo. è un modo di dire dalle mie parti. Koto da di? Koto. Eh. Si dice dalle mie parti, usando, come dire, volgendo lo sguardo al cielo con fare implorante, allargando le braccia e poi lasciandole cadere lungo i fianchi con fare sconsolato. Koto da di? Koto da di? Koto. Gente, mi togliete persino la voglia di prendervi per il culo perché ci riuscite benissimo da soli. e insomma, centinaia di torrette di carri P40 che hanno fermato l'avanzata degli alleati lungo la linea gotica. Allora, io vicino alla linea gotica ci vivo, ok? i miei parenti sono originari di un paesino arroccato in cima ad un colle che si chiama Fonte Corniale in comune di Monte Felcino. Io li porterei a Fonte Corniale a vedere che cos'è il terreno da quelle parti. Tutta una serie di forre, di calanchi, di colline, terreno franoso, boschi, boschetti con l'artiglieria tedesca e insomma con i tedeschi che sparano sempre dall'alto verso il basso per non parlare poi della linea gotica. Io l'anno scorso ho recensito un interessante libro sulle battaglie della linea gotica scritto da due grandi esperti di storia militare. se cercate nella timeline del canale lo ritrovate. Un anno fa io ho fatto la recensione di un libro dedicato alle grandi battaglie della linea gotica con tutta la spiegazione degli attestamenti difensivi degli appostamenti delle postazioni difensive eccetera eccetera così. È un libro che consiglio a tutti voi insomma cercate il video lo ritrovate ma basta anche tenere presente la geografia del nostro paese. il nostro paese è un territorio infame per fare la guerra perché le poche pianure sono percorse tutte da fiumi ok? Le colline sappiamo anche noi che cosa sono le colline noi insomma io in collina ci vivo sono nato e cresciuto nelle marche conosco a me in a dito il mio territorio so che cos'è il mio territorio un giorno o l'altro quando ci avrò un pochino di tempo farò un video proprio sul territorio marchigiano e su quanto infame può essere la guerra nel territorio italiano a causa della conformazione stessa del territorio italiano nel seicento si diceva che l'Italia era la tomba degli eserciti più ancora della Russia perché il nostro è un terreno infame il territorio italiano per far la guerra è un territorio infame montagne colline forre fossi ruscelli torrenti burroni il territorio italiano è questo e la linea gotica che a parte il fatto che era magistralmente diciamo sistemata la linea gotica era sistemata nel punto più infame di tutto l'accidente d'Appennino ha detto fatevi un giro parlo delle parti mie fatevi un giro dalle parti di auditore fatevi un giro nella Valconca fatevi un giro nella Valle del Foglia a vedere dove era attestata dove si attestava la linea gotica e vedrete quanto cazzo infame quel terreno e immaginate voi a dover attaccare una linea difensiva così ben attestata ma non furono le centi le presunte centinaia di torrette di carri P40 sistemate lì no perché le torrette le torrette difensive ricavate dai carri P40 mi pare che non furono più di una ventina per il resto c'erano le cosiddette Panther Storm ovvero sia i bunker ricavati dalle insomma i bunker interrati ricavati con le torrette dei carri armati Panther i nidi di mitragliatrici le postazioni d'artiglieria le posizioni di mortai la fanteria attestata insomma la linea gotica era un era come dire una linea difensiva estremamente solida ed estremamente potente e fu per quello che riuscì a resistere per un anno agli americani agli inglesi e a tutti gli altri tra l'altro c'è anche da dire una cosa che chi fa questa affermazione le centinaia di torrette dei carri P40 hanno fatto qualcosa di buono hanno fermato gli americani per un anno ricordatevi una cosa il fronte italiano dopo lo sbarco in Normandia dopo l'operazione dopo Overlord e dopo Anvil Dragon il fronte italiano oramai era un fronte secondario era un fronte che serviva soltanto per drenare le maggiori risorse possibili le maggiori risorse tedesche possibili in fatto di uomini e di materiali ma era un fronte secondario e gli americani e gli inglesi non è che avessero tanta voglia tra virgolette di rompersi le corna contro la linea gotica sapevano che era solo questione di tempo premevano 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 ma non avevano poi come dire una fretta eccessiva e ricordiamoci sempre questo il fronte italiano era un fronte secondario che che ne dica qualcuno ormai dopo come dire la catastrofe che travolse il regime fascista e il crollo del ventre molle d'Europa che eravamo noi oggettivamente lo scopo del fronte italiano era ormai stato raggiunto sì insomma signori ripeto pensare che gli americani siano stati fermati da un centinaio di postazioni cioè da centinaia di torrette di carri armati P40 interrate per 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 un'ammirabile postazione difensiva cioè crederlo cioè vuol dire veramente vuol dire veramente non avere un'idea di che cosa sia come dire lo studio della storia cioè io vi dico solo una cosa venite dalle parti mie venite a fare una passeggiata su nelle mie colline tra Fossombrone e Urbino il Crinale se vogliamo Monte Felcino Fonte Corniale Monte Guiduccio Isola del Piano Urbino e guardate che cos'è quel territorio guardate l'orografia di quella zona di terreno rendetevi conto di che cacchio di inferno poteva essere per chi attaccava quelle linee quelle postazioni per chi doveva avanzare in quel territorio perché il territorio italiano è da sempre un territorio ideale per la difesa e che rende la vita praticamente impossibile a chi deve attaccare chiaro quindi cari signori centinaia di torrette di P40 hanno fermato l'avanzata alleata lungo la linea gotica gente credeteci pure io vi dico la verità non ho neanche voglia di non ho neanche voglia di riderci sopra stavolta perché veramente è una cosa penosa siamo sinceri c'è veramente una cosa penosa signori una cosa penosa perché fare certe affermazioni vuol dire veramente non avere un'idea di quello che si parla e sparare le grosse solo per per darsi delle ari insomma signori ma avete tolto anche la voglia di prendervi per il culo insomma centinaia di torrette di carri P40 che hanno fermato per un anno l'avanzata americana sulla linea gotica ripeto fatevi un giro dalle mie parti in provincia di Pesano tra i comuni di Urbino di Monte Felcino di Fossombrone di Petriano di Monbaroccio e poi vedete lì quanto cacchio può essere difficile avanzare su un simile territorio ci farò un video signori ci farò anche un video e vi farò vedere e vi renderete conto con i vostri occhi di quella che è la situazione geografica di quelle zone e del perché l'avanzata degli alleati sul territorio italiano fu così lenta così stentata così soppicante nonostante la superiorità di uomini in uomini e mezzi tutto qua geografia signori geografia geografia tutto qui quindi cari signori io vi ringrazio per l'attenzione come sempre di nuovo arrivederci al mio prossimo video ciao ciao ciao